Manca ormai poco alla chiusura dei seggi, mancano 4-5 sezioni ma già qualcosa si sa. Sabatino Ranieri per ora è secondo e con un ballottaggio possibile. Secondo i vostri dati? I dati ufficiosi sembra che ci siamo. È un grosso risultato perché abbiamo avuto contro un'armata, più armate e quindi per noi è già una grande soddisfazione soprattutto per il gruppo di giovani che mi hanno seguito. Aspettiamo l'ufficialità. Nel caso dovesse andare in porto quello che ormai sembra scontato, almeno così danno anche dalle segretarie dei partiti, danno il ballottaggio per sé certo, ha già pensato a qualche apparentamento oppure si va da soli? Due giorni di riposo assoluto, poi studieremo i risultati e vedremo. Non ti so dire, è troppo presto. Ci vogliono due giorni di riposo assoluto per noi.